Sono circa 15.000 i bambini uccisi dalle forze del regime di Bashar al-Assad in poco più di tre anni di conflitto in Siria. Lo hanno denunciato gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dall'ONG antigovernativa con sede a Londra, 14.629 minori hanno perso la vita nei raid di Assad. Il conflitto inoltre ha prodotto solo malnutrizione e malattie per 2,1 milioni di bambini. A causa della guerra, poi oltre un milione di minori è stato costretto a fuggire nei paesi confinanti con la Siria, mentre sono 35.000 bambini nati nei campi profughi, 3,5 milioni quelli costretti a lasciare la scuola.